Questo è il corso che abbiamo organizzato come Medicina Democratica e come coordinamento nazionale sui problemi della salute e in questo incontro l'intenzione è quella di discutere, di parlare, di trovare delle domande e soprattutto delle risposte alla questione ospedaliera, che non può certo essere disgiunta dalla questione sanitaria in generale ed in particolare il problema che riguarda l'ospedale e il territorio è diventato un problema fondamentale, specie in tempi di Covid. Bene, noi avevamo chiesto di intervenire a due medici ospedalieri, poi però ci sono anche altre persone che possono dare il loro contributo, in particolare a Paolo Fierro, che è un medico ospedaliero di un ospedale di Napoli e quindi è anche abbastanza importante vedere qual è l'esperienza del Sud in questo campo, perché evidentemente ci sono delle differenze e delle peculiarità non di poco conto. E quindi, diciamo, il primo che interviene è giustamente Paolo Fierro. Dopodiché interverrà anche un altro medico ospedaliero, questa volta del Nord, Paolo Fierro è responsabile di Napoli e anche del Sud Italia per Medicina Democratica, mentre del Nord c'è Antonio Cimino, che è il responsabile di Medicina Democratica di Brescia e lavorava agli ospedali civili di Brescia. Quindi, se voi siete d'accordo a questo punto, visto che siamo anche in ritardo di qualche minuto, direi di cominciare e lascerei subito la parola a Paolo. Va bene, grazie. Scusate, leggero in ritardo. Va bene, alza la voce perché ti si sente poco. Va bene così? Va bene, va meglio? Ti si sente male, lontano. Non si sente? Poco poco. E adesso sì. Meglio? Sì. Meglio così? Sì, c'è un po' di... Vabbè, senza cuffie. Sì, d'accordo. Allora, l'argomento è... Vabbè, non saprei proprio come migliorare la faccenda. Vediamo un po'. Forse se rinunisco un poco così. Va bene? Va meglio? Sì, sì, va bene così. Sì, va bene. Vabbè, l'argomento, diciamo, è piuttosto complesso, visto pure, diciamo, la storia con cui si è sviluppata la stessa ospedalità pubblica in Italia e in particolare nel Sud. Mi spiego. Noi facciamo una discussione all'inizio, nelle nostre assemblee web, che abbiamo iniziato l'anno scorso, sulla possibilità di rivedere, non revisionare, ma insomma adattare all'attualità le grandi riforme che hanno caratterizzate gli anni 70 del secolo scorso, che sono state delle vere e proprie rivoluzioni, almeno da un punto di vista culturale, e cioè l'833 e la 180, anche la legge sulla libertà di scelta delle donne, la 194. Il discorso è questo, è che una delle anomalie che abbiamo, un po' nelle discussioni che abbiamo sviluppato a Napoli in particolare, dove da anni, molto prima del Covid, abbiamo fatto delle lotte per la difesa degli ospedali del centro storico, che erano in genere degli ospedali alcuni dei propri antichi, addirittura ereditate dal Medioevo, che non stavano adattati negli anni 50 e 60, più o meno modernati, poi di nuovo ristrutturati dopo il terremoto, ma che comunque mantenevano una certa dimensione e specialmente una certa struttura che in qualche modo entrava in conflitto con il territorio. E qui ci siamo ricordati, insomma, l'ho ricordato io varie volte, l'osservazione che fece Ivan Cavicchi in un convegno, tra altre cose, organizzato dall'USB a Firenze qualche anno fa, in cui sollevava il problema che in effetti l'830 aveva inclobato pari pari la cosiddetta prima riforma Mariotti, che dava un assetto più o meno organizzativo agli ospedali pubblici, ma sostanzialmente considerandoli come una cosa a sé rispetto al resto della sanità. E di fatto in tutti questi anni l'idea dell'ospedale è sempre stata un'idea in contrasto e comunque nettamente distinta dal resto dell'assistenza. Quindi ci siamo posti il problema sostanzialmente di superare quella che ci sembrava almeno alla luce di tutta l'esperienza che abbiamo attraversato in tutti questi anni, di superare prima di tutto quella divisione tra salute mentale e salute in genere, come se diciamo si dovesse separare la testa dal corpo, o comunque una parte della testa dell'essere umano che è la salute mentale dal resto degli organi. E questo è un problema che magari poi lo si deve affrontare più compiutamente insieme a quelli che si occupano di salute mentale, gli psichiatri in particolare. E poi c'era il problema di risolvere questa antitesi tra territorio e ospedale che si poneva già strutturalmente immediatamente pure dopo il varo della legge 833. Non per niente l'ospedalità poi è stata uno dei primi ambiti dove si è sviluppata l'idea dell'aziendalizzazione. Di per sé l'ospedale si presta proprio come struttura alla verticalizzazione del comando, quindi in alcuni settori è addirittura una cosa quasi, come dire, scontata come i settori chirurgici, per cui ci sta un capo e tutto il resto e si discute poco, gli ordini si discutono poco, perché il primario dice così e così comanda eccetera eccetera. Successivamente questo tipo di mentalità, chiaramente che lascia poco spazio non dico alla partecipazione dei pazienti, ma neanche al dialogo tra gli stessi componenti delle squadre che formano il lavoro ospedaliero. nei processi di aziendalizzazione ha ricevuto, diciamo, come dire, una sorta di legittimazione. Prima lo si metteva un po' qui in discussione, adesso invece è come una legge non scritta. Non per niente i primari, adesso si chiamano direttori di reparti, di dipartimenti, eccetera eccetera. E anche loro immediatamente, prima forse delle ASL, hanno assunto l'idea della produttività, del, come dire, cumulare DRG, far dimostrare che i reparti sono in grado di, come dire, trattare i numeri, cumulare grossi elementi di accelerazione, diciamo, dei casi trattati. Non voglio usare termini, diciamo, di tipo nettamente industriale o mercantile, no? I pezzi, ma, ma insomma, la mentalità è quella lì. Chiaramente si favoriscono i DRG più remunerativi, più, più importanti, più pesanti. E questo tipo di mentalità, quindi, ha calzato più immediatamente in ambiente ospedaliero che nei settori territoriali, cioè, vale a dire, nei poliambulatori, ad esempio, o nei distretti. Allora, progressivamente, poi abbiamo visto, ma penso che sia un fenomeno che si sia sviluppato in tutta Italia, il processo per cui le ASL territoriali hanno perso progressivamente la quota di ospedalità per concentrarla nelle aziende ospedaliere. Quindi, diciamo, questa polarizzazione, che tra le altre cose è descritta bene nel libro che analizza le trasformazioni del servizio sanitario britannico, SOS Sanità, che praticamente, in qualche modo, ci fa vedere gli schemi secondo cui si sono mossi un poco tutti i processi di destrutturazione del servizio sanitario nazionale. Quindi, nella nostra realtà specifica, esistevano una serie di vecchi ospedali, dicevo, i quali praticamente erano strettamente collegati con il territorio, e che le ASL hanno cercato progressivamente di impoverire e poi chiudere, con vari meccanismi che, diciamo, sono andati dal depauveramento del personale, rallentamento, diciamo, delle risorse, della logistica, fino a poi la chiusura, con varie, diciamo, motivazioni, dal dissesto idrogeologico a problemi di tipo della sicurezza utilizzata strumentalmente, diciamo, per questo processo, e progressivamente, nel periodo in cui, tra le altre cose, era difficile o impossibile assumere personale, tutto il personale raccattato dallo sfodamento di questi ospedali territoriali veniva allocato e arroccato sui nuovi ospedali, diciamo, in costruzione. In particolare l'ospedale dove ho lavorato io, perché, vabbè, Fulvio forse ha dimenticato, ma anche io sono in pensione da pochi mesi, l'ospedale del mare, il famoso ospedale di Napoli, che è stato progettato sulle linee di Renzo Piano e poi, diciamo, ha avuto, tra altre cose, un problema di dissesto idrogeologico, manca a farlo apposto, proprio in pieno periodo Covid, adesso, e attualmente è un afflusso di pazienti minimo, proprio perché è venuto a mancare l'acqua calda e gli impianti di diareazione. Questo, vabbè, questo poi è un altro problema. Quindi abbiamo vissuto questa fase in cui noi ci opponevamo alla chiusura di questi ospedali. Però ci rendevamo pure conto che rischiavamo di fare una battaglia di retroguardia. Nel senso che, effettivamente, Fulvio è venuto diverse volte a Napoli, quindi conosce pure le realtà. Parecchie di queste strutture avevano un impianto proprio edilizio antico, ed erano difficili da gestire, secondo l'idea, diciamo, le idee moderne di gestione appunto di una sanità efficiente, eccetera. Però, insomma, il discorso, il distacco dal territorio era un problema che veniva avvertito fortemente dall'utenza, dalle popolazioni, perché poi questi ospedali, questi grossi poli ospedalieri, venivano collocati in genere nelle periferie, ai limiti appunto dal confine della città. E cioè, beh, questa è un'operazione che in realtà è iniziata da decenni, no? C'era la collina ospedaliera, dove si arroccavano anche i policlinici, e poi ci stava il resto della città. Quindi già un'idea di separazione di per sé. Allora, il ragionamento che stavamo sviluppando in questi giorni, proprio ieri abbiamo fatto un'assemblea in uno di questi ospedali, diciamo, svuotati dall'Asle e occupati da un comitato locale, si bati bene con il favore dei lavoratori che sono rimasti là dentro, no? Quindi in effetti è un'area a cui ha libero accesso il comitato, che colloquia continuamente anche con alcuni della direzione sanitaria e gli operatori che sono rimasti dentro questa struttura. e si faceva questo discorso, diciamo, come superare l'antitesi tra l'Asle territoriale e questi grossi poli ospedalieri, e specialmente come fare un discorso alternativo a quello dell'aziendalizzazione. Allora abbiamo immaginato di poter prima di tutto proporre nella città, in concreto in questa città di Napoli, dove ci sono praticamente cinque, sei vecchi ospedali nel centro storico, di poter modulare una proposta di assistenza con intensità variabile, che però non avesse una distinzione netta tra, diciamo, il territorio, e qui poi faccio un inciso, e l'assistenza ospedaliera di medio impegno, di medio impatto, che si doveva collegare con quella invece a maggiore complessità, appunto, negli ospedali classici, diciamo, quelli che sono stati costruiti appunto con criteri, o almeno si sono definiti con criteri e dimensioni diverse. E quindi, in pratica, si sta facendo questo discorso un po' pure con i comitati locali, per cui con il 118 abbiamo dialogato, che hanno avuto enormi difficoltà in questo periodo del Covid, e non si riuscivano a raccordare con i medici di base, con i medici di continuità assistenziale, l'ex guardia medica, che è rimasta una sorta di appendice, anche lì, che tende ad essere, come dire, annullata via via, con il procedere dei processi di finanziamento, o comunque di chiusura dei servizi, e poi con i medici dei poliambulatori. Anche lì una realtà estremamente depauverata. Nel periodo pre-Covid, adesso praticamente enormemente penalizzata dalle norme giuste, diciamo, della prevenzione e della diffusione della malattia. E quindi si è immaginato di proporre una struttura altra. Chiaramente, voglio dire, parliamo di un discorso da proporre qui localmente, però, diciamo, a partire dalle realtà specifiche della nostra città, però che forse potrebbe essere, diciamo, allargato anche altrove. E cioè sarebbe che praticamente questa struttura dovrebbe comprendere una forte, diciamo, componente di intervento territoriale connesso pure con la prevenzione e quindi praticamente non ci dovrebbe essere, per esempio, la distinzione tra la medicina di base, gli operatori del 118, tramite la continuità assistenziale e i medici del distretto. Nel senso che, chiaramente, uno dei motivi per cui, diciamo, l'aziendalizzazione va avanti è pure questa estrema divisione, frammentazione degli operatori, per cui, ad esempio, ci sono pure forme contrattuali molto diverse tra i medici di base e quelli delle USCA, quelli degli ambulatori, quelli del 118, che hanno tutti, diciamo, pure delle... in genere, dei rapporti tipo... tipo libero-professionali, insomma, o simili. Allora, in realtà, in questo periodo, sono stati fatti dei bandi per reclutare personale, per l'USCA, eccetera, eccetera, ma perché non proporre finalmente l'assunzione dei medici dipendenti che possano svolgere tutti questi servizi e collegarsi direttamente all'ambito ospedaliero con un discorso di continuità, specialmente con una direzione unica e un progetto di salute specifico che sia ritagliato o pensato, progettato sul territorio. E quindi, praticamente, questi... abbiamo immaginato queste strutture, abbiamo chiamato territorio della cura, che potrebbero, diciamo, avere pure delle aree di assistenza ospedaliera, di tipo ospedaliero, che possono utilizzare tutti questi contenitori che, diciamo, sono rimasti praticamente vuoti, no? Tra le altre cose, abbiamo varie volte proposto, sia alla regione che all'ASL locale, a Napoli c'è una sola ASL, ASL Napoli 1, di utilizzare questi contenitori, per esempio, per i pazienti covid positivi, per i pazienti paucisintomatici, per tutti i pazienti dismessi che possono avere, diciamo, una necessità di una sorveglianza di, diciamo, di riabil... o fenomeni... o, diciamo, necessità riabilitative, perdonate la confusione, qua a casa mia è sempre un bordello, e praticamente c'è sempre stato detto di no. Hanno fatto delle cose incredibili, del tipo svuotare il resto dei presidi di pronto soccorso e metterci dei centri covid che poi privi di personale sono rimasti semivuoti, oppure nonostante, diciamo, la... le proposte fatte dal sindaco di utilizzare, per esempio, anche le strutture alberghiere hanno preferito utilizzare e qui ci è sembrata, insomma, una manovra strumentale da parte dell'azienda, ehm... ehm... un... uno dei pochi pronto soccorsi ehm... periferici della... della città per accogliere, diciamo, questi pazienti covid positivi. Il tutto, diciamo, con una penuria di personale che non vi descrivo. Però, diciamo, questo poi è il modo di fare scorretto, diciamo, della... delle amministrazioni che hanno avuto poi la fregatura che, eh... arroccando tutto nella grande... nel... nel grande ospedale nuovo, che è l'ospedale del mare, per un crollo hanno dovuto poi eh... rismistare i pazienti altruque perché non riuscivano più ad assistere. Quello che voglio dire è che potremmo immaginare, potremmo ridiscutere tutto, eh... la... il concetto di ospedalità eh... a partire da queste necessità di non distinguere nettamente eh... l'intervento ospedaliero da quello territoriale. Faccio un altro esempio. Io ho fatto parte per tanto tempo del... di un gomma, c'è... di un gruppo eh... oncologico multidisciplinare testa-collo e la cosa che diciamo saltava gli occhi è che noi vedevamo questo paziente una volta che arrivava in ospedale diciamo già con la diagnosi fatta e in genere veniva prima trattato chirurgicamente poi dopo veniva assistito dal radioterapista o oncologo e via dicendo poi di che trattato il pezzo tra virgolette veniva veniva come dire restituito o espulso dall'ospedale fuori eh... senza che poi eh... gli si gli si fosse garantito diciamo un percorso mh pure di reinserimento eh... diciamo accettabile e infatti poi ci sono stati vari casi di crisi. in realtà non solo io ma pure altri eh... colleghi istintivamente abbiamo siamo andati un poco oltre nel senso che abbiamo coltivato questi rapporti siamo abbiamo pure avuto modo di osservare il contesto sociale in cui vivevano eccetera e e non voglio dire abbiamo fatto la cosa eroica di assistere a casa però abbiamo abbiamo intuito quando fosse necessario sia eh... poter e quando e quanto carente da un punto di vista proprio eh... diciamo del concetto di assistenza il fatto che il paziente in effetti arrivava da noi come un perfetto sconosciuto se ne usciva solo con la sua con le sue problematiche ma eh... diciamo veniva trattato diciamo con un pezzo di fabbrica e finiva lì eh... mentre che invece eh... il problema doveva essere evidentemente considerato in maniera eh... in maniera più complessiva cioè mh... sarebbe stato bene per esempio vedendo quanti casi quanti casi eh... quanti casi arrivavano arrivavano da noi con le diagnosi tardive addirittura eh... in stati disperati non trattabili chirurgicamente quando sarebbe stato necessario risalire al contesto sociale in cui essi eh... diciamo vivevano e eh... poter per esempio analizzare le cause per cui eh... avvenivano queste diagnosi tardive e... e in qualche modo rimediate no? eh... non dico con eh... accentuando la la... non solo la... la... le diagnosi precoci ma specialmente discutendo delle cause e cercando di eh... rimuovere così come di mettere un paziente e non preoccuparsi se questo ha un domicilio che lo possa accogliere o un'assistenza territoriale eh... sufficiente a volte purtroppo e lo dico eh... ci ha coinvolti in azioni di vero e proprio crimine sanitario perché eh... insomma magari poi i parenti di ti telefonavano disperati perché non avevano avuto l'aspiratore perché nessun infermiere eh... del territorio era andato a fare la medicazione c'è certo molti di questi qua morivano in maniera veramente eh... veramente animalesca è una cosa eh... intollerabile queste sono le cose diciamo che ci tenevo a dirvi perché io credo che si possa fare io penso che per esempio dei giovani medici del Cardarelli che hanno parlato insomma con noi in questo periodo rilevavano lo stessa la stessa difficoltà la stessa le stesse contraddizioni eh... e... paradossalmente perdonatemi eh... eh... e paradossalmente diciamo questo paradossalmente questa azione diciamo questo contatto col territorio prima e dopo l'hanno sviluppata in un territorio extra come per esempio qualcuno che faceva questi ambulatori popolari eh... nei centri sociali o in 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 associazioni diciamo eh... non non ufficiali questo è tutto ma eh... ci sarebbe pure tutta la discussione da fare sulle possibilità di proporre una struttura organizzativa diversa dall'ASL dall'ASL che comprendesse pure l'ospedalità eh... e quindi diciamo un discorso eh... per cui diciamo attualmente questa è affidata in mano a ai direttori generali che si definiscono manager come appunto gli imprenditori chiude la volta eh... e che però sostanzialmente sono prima di tutto nominati dall'altro dal... dai governatori in secondo luogo nessuno sa che cosa hanno in testa quando si insediano o il meglio capiamo subito che quasi tutti eh... si preoccupano semplicemente da un lato di risparmiare dall'altro di tagliare eh... i servizi territoriali e eh... quegli ospedali tra virgolette vetusti non per migliorare ma per perché inseguono questa idea eh... dell'ospedale diciamo come fabbrica di DRG e quindi l'azienda ospedaliere e infatti puntualmente questi ospedali vengono costruiti e poi dopo si staccano dall'asile e fanno un'azienda ospedaliere a parte questo è un fenomeno che abbiamo visto ma non penso che sia molto simile pure a livello eh... nelle altre regioni in maniera più o meno accentuata e credo che noi abbiamo il dovere di di contrastarlo eh... penso che sarebbe pure ora che discutessimo seriamente su che cosa vogliamo proporre in alternativa perché eh... ripeto ehm... così come è andata la storia eh... in effetti noi abbiamo legato con la colla dei pezzi che non andavano eh... che diciamo si sono sviluppati in maniera diversa eh... in tempi diversi non si sono mai fusi realmente l'ospedale e il territorio la salute mentale e il resto della salute avremmo invece la necessità di una sintesi e specialmente di un progetto che esca fuori dall'aziendalizzazione esca fuori dall'idea dell'ospedale azienda che è la proposta insomma prevalente e quindi un progetto che però si colleghi diciamo direttamente alle necessità di salute a partire pure dall'esame dei determinanti associati cioè mi sembra eh... la... come dire l'epidemiologia nei servizi ASLE è una sorta di archivio a parte che eh... non entra proprio nei discorsi per esempio della gestione di un ospedale non entra proprio nella gestione eh... del... dei territori è una cosa culturale che siamo stiamo lì e ci sta qualche topo di biblioteca che li va la... va a scavare questi numeri quando te li fanno vedere no questo poi ci sarebbe tutto il discorso da fare dell'accesso reale ai dati e eh... alle alle casistiche che pure vengono fatte nelle ASLE e quindi di fatto non ha un ruolo attivo mentre invece dovrebbe avere un... il... il cuore di ogni progetto di salute nel... sul territorio dovrebbe essere proprio l'epidemiologia e l'esame eh... diciamo dei determinanti sociali cose che è possibile perché noi in qualche modo a Napoli l'abbiamo tentata di fare abbiamo fatto il REC il registro di offerte epidemiologico comunale e l'abbiamo collegato con i determinanti di salute abbiamo fatto un bel lavoro tra altre cose abbiamo pubblicato pure in un paio di congressi e eh... abbiamo sviluppato pure quartiere per quartiere anno per anno le eh... le curve di sviluppo della mortalità contavamo di fare anche il RENCAM cioè il il registro delle cause nominative di morte distribuite per territorio eccetera eccetera eh... però insomma poi in qualche modo hanno trovato la scusa del covid e non ce l'hanno fatto più fare però quello che voglio dire noi dovremmo partire dei ragionamenti eh... sia del... prima di tutto unire il il progetto nel progetto di salute eh... il territorio e eh... l'ospedale e poi centrarlo su questi elementi cioè a partire da questi elementi che si hanno in mano cioè i dati della mortalità le cause di mortalità il contesto sociale eh... economico eccetera però costruire il... eh... un percorso che smuova queste realtà non invece come succede che le regioni ogni 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 giunta che cambia fa un prima di tutto fa solo il piano regionale ospedalista no? Si interessa solo dei posti letto eccetera eccetera tutte le altre sono cose ancillari che vengono un po' che abbandonate a sé e poi puntualmente si fanno un sacco di chiacchiere ma realmente concretamente poi agiscono i eh... come dire i comitati dei primari le 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 varie corporazioni mediche che modellano queste queste cose e e sostanzialmente piegano ai loro ai loro interessi tutto tutto il progetto poi ci sta tutta la partita parallela e purtroppo cumulativa della ospedalità privata che si sta inserendo sempre più potentemente eh... su questo su tutto questo argomento perché e con cui diciamo l'ospedalità pubblica non è che va in competizione non è non è che va in conflitto cioè non so si fanno concorrenza ma non è che vanno in 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 conflitto diretto e questo è un altro elemento che che ci deve far pensare cioè noi stiamo abbiamo costruito fino adesso dei doppioni dei come dire campioni che dovessero concorrere con 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 l'ospedalità privata salvo che poi nella in quella logica allora sono molto più bravi quindi specialmente se hanno capitale a disposizione ci fregano in velocità vabbè io avrei finito poi magari possiamo riprendere perché forse sono stati purtroppo lunghi benissimo grazie Paolo prima di lasciare la parola a Antonio Cimino farei questa considerazione farei una considerazione sul fatto di modificare un po' il sistema legislativo per la verità dentro il coordinamento nazionale per il diritto alla salute abbiamo pensato a un certo punto di fare una proposta di legge di iniziativa popolare detta di riforma delle controriforme quello che ha detto Paolo per esempio intanto per togliere delle cose tipo togliere l'azienda togliere il direttore generale togliere i DRG togliere la libera professione intramenia e quindi fare un qualcosa che assomigliasse di più alla legge 833 del 78 ma ci siamo anche resi conto che occorre fare qualcosa di più rispetto a quel periodo cioè proprio occorre e il covid ce l'ha insegnato quello che diceva Paolo prima cercare di legare l'ospedale al territorio cercare di fare in modo che non ci di rompere la rottura cioè di rompere la rottura scusate il vestigio di parole fra queste due entità e su questo abbiamo pensato di lavorarci sopra tra parentesi cioè un'altra riflessione io ricordo che in Lombardia avevamo fatto 1992 una proposta di legge di iniziativa popolare che abbiamo raccolto pure le firme ed è stata presentata in regione e subito bocciata sulle cure domiciliari e avevamo preso spunto da un'esperienza di Torino che dall'ospedale Molinette dalla geriatria dell'ospedale Molinette era partita un'iniziativa di ospedalizzazione a domicilio e veniva fatto questo discorso che dall'ospedale si usciva uscivano gli operatori per andare nelle case e fare questo tipo di lavoro sicuramente interessante poi però la cosa non è andata avanti per la verità riflettevo anche che a Milano siamo molto più indietro rispetto a Napoli che si voglia dire tanto che noi abbiamo anche cercato di copiare quell'iniziativa di cui diceva prima un nuovo fiero della consulta sui diritti che è sul problema della salute mi dà 35.000 euro per la casa di Sicilia se l'accordo Antonio chiudi vado che parlo ciao buonasera benvenuti a tutti va bene allora comincia pure riprendiamo il discorso dopo Antonio Antonino anzi Antonino Cimmino anche lui è in pensione ma è un ex medico non ex medico un ospedaliero ex ospedaliero dell'ospedale civile anzi si dice al plurale degli ospedali civili di Brescia quindi diciamo che sono in pensione ormai mai il 3 febbraio che è data del pensionamento è passato quasi un anno però la situazione sicuramente da noi è un po' diversa da quella che ha raccontato fino adesso Paolo per quello che è la nostra situazione in Lombardia situazione in Lombardia che vede sempre più un attacco estremamente massiccio della privatizzazione privatizzazione che avviene in realtà sempre sul denaro pubblico perché non è che sono ospedali privati sono ospedali che sono pagati con le nostre tasse e il budget della regione Lombardia oltre il 45% oramai è rivolto verso l'ospedalità privata questo ha determinato che fondamentalmente si ha come ha raccontato prima una completa depropiorizzazione per quanto riguarda il territorio il territorio di fondo ci sono i medici di base che sono stati abbandonati a se stessi i distretti sanitari che fondamentalmente non hanno più alcuna funzione reale e tanti servizi che c'erano dai consultori dai centri per l'igiene mentale dai centri per i disabili che sono stati anche questi privatizzati cioè dati al privato tant'è vero che ad esempio banalmente nei consultori c'è buona parte c'è dire ne rimangono solo tre nel Bresciano un milione di persone e pubblici e tutti gli altri sono in realtà in mano a privati che possono essere associazioni cattoliche cattoliche associazioni antiabortiste associazioni di questo genere per cui c'è stata questa avversità rispetto quella che era la sanità rispetto anche alle leggi nazionali su quanto riguarda gli ospedali quello che è venuto fuori sicuramente è il discorso come era stato accennato prima dell'azionalizzazione cioè l'azionalizzazione vuol dire che fondamentalmente quello che deve essere fatto all'interno dell'ospedale è quello che deve in qualche modo essere da un punto di vista economico vantaggioso e facendo sempre l'esempio del pubblico e privato se voi andate a vedere in Lombardia nel privato c'è dire tutte le varie cliniche utilizzate o altro in Lombardia in buona parte sono specializzate in ortopedia sono specializzate in cardiologia sono specializzate in ginecologia in qualche modo ma ad esempio per quanto riguarda l'attività che facevo io curare le persone che hanno il diabete il diabete che non prende molto da un punto di vista economico in realtà non c'è stata nessuna concorrenza cioè dire nessuno ha deciso di aprire gli ambulatori di diabetologia perché non erano concorrenziali da un punto di vista economico ma il fatto della idealizzazione colpisce anche l'ospedale pubblico perché anche l'ospedale pubblico deve raggiungere il suo budget per cui raggiungere il suo credito e per cui in questo modo si è spinto sempre verso una maggiore verso una maggiore ospedalizzazione e la centralità dell'ospedale quello che è successo è venuto fuori quando è successo il problema covid il problema covid che ha dimostrato cosa che gli ospedali non erano in grado di gestire la vicenda l'enorme vicenda della pandemia di quello che è successo e sul territorio non c'era realmente nessuno ai medici in generale veniva detto che i dispositivi di protezione individuale devono comprarsi di loro perché loro erano semplicemente dei liberi professionisti che avevano una relazione con la sanità lombarda ma erano liberi professionisti per cui se volevano degli dispositivi di protezione individuale avrebbero dovuto comprarseli e trovarseli da soli ed è una situazione questa reale che ha portato a tanti possiamo dire feriti e tante morti probabilmente evitabili anche nell'ambito nell'ambito sanitario oltre che dei pazienti perché avevi difficoltà a poter mandare dei pazienti o altro ricostruire la sanità cosa vuol dire ricostruire la sanità probabilmente vuol dire ripartire cioè dire non dal vertice cioè dire non ripartire dagli ospedali ma proprio ripartire dalla base della piramide e per cui ripartire dalla base della piramide vuol dire ripartire da quello che sono le esigenze sul territorio e avere nuovamente un contatto col territorio e questo io quello che ho letto visto in questi tempi di regionalizzazione o altro cioè dire il fatto che alcuni sindaci del nord di Milano e altro ci siano espressi in questi termini vuol dire ricostruire partire dai prossimamente dai medici medicina generale ripartire dai distretti vedere i contratti di lavoro che loro hanno e le modalità che hanno in modo tale da poter essere già la base per costruire quello che è un sogno delle case della salute casa della salute che vorrebbe dire ritrovare medico medicina generale medico specialista psicologo psichiatra che lavorino tutti insieme e riportando il concetto della salute come un concetto non soltanto di assenza di malattia ma di benessere che sia sia fisico che sia psichico e altro per cui vuol dire prendersi cura del problema della casa del problema del reddito del problema dell'istruzione sopra ci saranno gli ospedali che anche questi dovranno avere una visione probabilmente diversa di gestione diversa io penso ai nostri ospedali civili di Brescia come diceva Fulvio prima l'ospedale più grosso della nostra provincia in cui però ad esempio banalmente è assurdo che in un reparto di ortopedia non sia presente un internista cioè dire i problemi che ha il paziente novantenne che si è rotto il femore non è soltanto la frattura del femore ma probabilmente è cardiopatico probabilmente c'è una broncopropia costruttiva probabilmente c'ha il diabete e probabilmente andrebbe gestito in maniera diversa per cui fare delle unità funzionali gestite e viste in maniera diversa su queste iniziative queste possibilità che ci sono cioè dire in questo momento in Lombardia c'è il rifacimento della legge Maroni la legge 23 del 2015 che costituiva quella che era la situazione ospedaliera Lombarda perché fondamentalmente sul territorio non diceva nulla con questa generalizzazione parità fra pubblico e privato la legge su Agenas ha fatto delle rilevanti osservazioni che dovranno essere visionate e per arrivare a una nuova legge sanitaria per quanto riguarda la regione Lombardia e su questo dobbiamo lottare per cercare di ottenere quelle facoltà quelle necessità che noi riteniamo siano possibili per migliorare la cura sulla popolazione io finirei qua non direi altro se qualcuno vuol chiedermi chieda pure se non c'è altro volevo completare un po' il discorso diciamo delle idee che più o meno stanno girando nella nostra nella nostra zona allora si è pensato? non si sente Paolo mi sentite adesso? adesso sì? sì adesso sì scusami non so perché con il con le cuffie io cercavo perché a casa mia c'è mia nipote ogni tanto fa baccana mi dovete scusare vi chiedo scusa allora uno dei problemi che ci siamo posti e questo è stato alla base della costituzione della consulta che c'è stata riconosciuta dal sindaco dei magistris quindi voglio dire diamo atto a quest'uomo che insomma ha avuto questa sensibilità anche se diciamo l'ha recepita dopo un periodo di lotte insomma pure piuttosto diciamo clamorose però era il problema di dare voce ai rappresentanti delle comunità locali e anche in qualche modo al territorio di condurre un poco il tutto la discussione sulla salute alla democrazia di base o comunque all'idea originaria proprio dell'833 la partecipazione eccetera eccetera usl prima delle asl e insomma questo è stato il concetto per cui a costituire la consulta non sono state delle associazioni insomma che più o meno avevano una sigla riconosciuta eccetera ma dei comitati che erano cresciuti con quelle modalità che vi ho descritto più alcune associazioni familiari dei bambini con autismo associazioni degli ammalati della salute mentale e comitati locali insomma che si interessavano di ambiente detto questo però ecco sarebbe importante che alla definizione di di un programma di salute territoriale comprendente comprendente il territorio e l'assistenza ospedaliera non distinti tra di loro dovessero dovessero concorrere realmente non in maniera solo fittizia come avviene adesso eh i i sindaci delle delle cittadine possibilmente delle aree metropolitane questo è un altro discorso importante che dovremmo affrontare cioè la le realtà eh concrete in cui eh noi ci muoviamo e i comitati che eh eh possano costituire appunto degli organismi come questa come questa consulta poi poi parallelamente secondo secondo me secondo tantissimo la il discorso della casa della salute dovrebbe eh eh nascere proprio da questi ambiti di dibattito che coinvolgano poi i medici di base come ha detto eh come ha detto Antonino i medici di base gli specialisti eccetera eccetera in un rapporto stretto cioè eh la la casa della salute dovrebbe contenere eh un un ambito di democrazia partecipata con cui si discute continuamente diciamo il funzionamento di di queste di questo tipo di assistenza eh e specialmente eh il programma di salute che si è definito programma di salute che poi dovrebbe essere proposto non più imposto cioè potrebbe essere questa un'idea interessante cioè il direttore eh il direttore sanitario no o comunque la direzione strategica eh sanitaria e amministrativa eh dovrebbe dovrebbe essere sottoposta a una sorta di vaglio popolare una forma pure elettiva no non come eh calata dall'alto per cui questa gente dovrebbe proporre a un certo punto noi su questo territorio vogliamo fare questo in base a questi dati ai dati epidemiologici i dati dei determinanti sociali eccetera eccetera perché faccio un esempio Napoli è una città con enormi divari da un punto di vista sia della mortalità ma anche parallelamente dei dati eh sociali cioè non per niente le periferie sono eh oltre che invase dalla criminalità ma anche dalla povertà di reddito disoccupazione abbandono scolastico disagio abitativo e tutto il resto cioè la mappa della mortalità è pari pari quella del disagio sociale e di tutti questi problemi adesso eh connessi allora su questo ambito immediatamente va proposto un programma eh sanitario eh specifico senza la distinzione appunto tra eh non con l'idea produttivistica di andare a raccattare i DRG ma con l'idea di dover risolvere quei problemi e quindi non solo un problema sanitario ma un problema politico e naturalmente deve coinvolgere il primo cittadino le forze politiche le comunità locali in questo senso qua noi dovremmo immaginare una vera e propria rivoluzione culturale del della gestione della sanità per cui mh questa gente che poi viene mh diciamo eh nominato direttore no di di della struttura deve essere connesso con questo progetto che è stato discusso ed approvato poiché chiaramente se il progetto eh comunque i risultati non si vedono ma in termini di modificazione dei dati di epidemiologici non in termini di produzione dei DDRG evidentemente questo direttore o questa struttura direttiva non funziona e va cambiata questo è cioè quella dovrebbe essere la cartina al tornasolo non dobbiamo aspettare la prossima catastrofe covid per scoprire che qualcosa non va e che specialmente la sanità magari sta eh sta facendo mille operazioni magari inutili eh interventi chirurgici cumulativi molto costose eccetera eccetera e poi non si sposta di un millimetro la mortalità generale o la mortalità evitabile perché pure questo è un altro rischio no? Perché voglio dire eh è molto evidente faccio un esempio molto banale il mio reparto che è del reparto dell'Otorino facevamo dei DRG fantastici tra i migliori d'Italia perché però perché operavamo eh tumori allo stato avanzato e avanzatissimo che come DRG ti ti fa spiccare molto in alto però il problema è che questi pazienti sono pazienti che già erano condannati cioè pazienti che eh già hanno avuto un'evoluzione sbagliata pazienti che dovevano essere presi prima pazienti che poi vengono da contesti sociali disastrati pazienti che poi escono dall'ospedale e muoiono magari non per l'intervento o per il tumore ma per tutto il contorno eh nel contesto sociale in cui eh eh vengono a ricollocarsi abbiamo avuto pazienti che non avevano un'abitazione oppure vivevano in abitazioni occupate quindi non potevano avere manco l'assistenza domiciliale posto che fosse pure possibile fargliela avere quindi questo è un po' voglio dire il nuovo mh la nuova impostazione che dovremmo eh proporre perché se no altrimenti ci troviamo ad aggiustare un poco la i concetti di aziendalizzazione e ci ci troviamo a come dire a fare un'operazione di imbellettamento del dell'impianto generale senza invece eh pensare che dobbiamo proprio eh ribaltare completamente la frittata e fare tutto un altro un altro discorso il problema proprio della sanità privata è un altro pericolo incombente enorme eh in Lombardia chiaramente ha galoppato pure perché le forze politiche l'hanno l'hanno favorito eh da noi ci sono due grossi gruppi privati che però altre cose qualcuno è pure in odore di eh cioè malaffare nel senso che eh parte che interessano il un'area geografica tradizionalmente interessata dal dalla diciamo da fenomeni malavitosi però fa spavento la grandissima disponibilità economica che hanno rispetto veramente a diciamo all'amministrazione pubblica per cui ad esempio hanno reclutato a man bassa i migliori chirurghi che c'erano sulla piazza e li tengono diciamo nelle per di più la politica invece di cercare di contrastarli di favorisce addirittura di riconoscere un carattere di istituto di ricerca perché poi salvo che poi ogni tanto hanno problemi con la giustizia vabbè è una cosa che disturba un po' questo piano però voglio dire questo tipo di processo che diceva di cui parlava Antonino sta interessando anche le aree del sud voi pensate che in Molise praticamente con cui siamo in contatto una realtà diciamo del centro sud d'Italia in buona sostanza è tutto privatizzato addirittura in Neuromed si si fa fare le leggi quasi specifiche dal governo da uno degli ultimi governi centrali insomma si è fatto si è fatto fare una legge ad hoc che travalicava tutti i i limiti del anche loro avevano problemi diciamo per quanto riguarda la spending review comunque i piani di rientro eccetera eccetera questo per dire che purtroppo noi la bubola che diciamo dovevamo risparmiare perché dovevamo rientrare non ce la siamo mai bevute perché l'abbiamo vista con i nostri occhi come invece mentre chiudevano le nostre maternità per dire noi non superate i cento parti all'anno però alle cliniche private oppure non avete tutte le strutture di garanzia la TIN eccetera eccetera poi le cliniche private invece continuano a concedere a man bassa la convenzione quindi l'offensiva diciamo culturale prima di tutto a cui noi dobbiamo rispondere deve essere deve essere fatta con una serie di idee radicalmente nuove la sanità pubblica deve tenere tutti i medici dipendenti che partecipino a questi progetti di salute e siano coordinati con una mente unica non che ogni poi sindacato e sindacatini si piazzano su e strappano un piccolo feudo di privilegi per esempio gli specialisti ambulatoriali hanno un contratto che in certa misura tira più soldi del medico dipendente il medico di base ha delle penalizzazioni sicuramente però ha pure dei privilegi eccetera la guardia medica chiaramente la continuità assistenziale si lamenta che non ha un ruolo specifico però sostanzialmente ci tiene molto a difendere la sua dimensione diciamo di rapporto libero professionale questo è cioè o usciamo da tutte queste pastorie oppure diciamo non siamo destinati ad assistere al tracollo che sarà favorito dalla crisi economica e dalla crisi politica a cui stiamo assistendo al tracollo completo del sistema sanitario nazionale perdonate forse sono stato troppo grazie anche di questa seconda riflessione Paolo adesso sentiamo gli interlocutori quelli che sono che hanno partecipato che partecipano al corso sentire che cosa ne pensano soprattutto in funzione di questo tema non come rianalizzare tutte le cose che ci sono ma come lavoriamo per cambiarle credo che questo sia la sfida che noi abbiamo di fronte quindi chi vuole intervenire lo può scrivere sulla chat ma poi può intervenire direttamente che così facciamo prima prego chi interviene tra l'altro ci sono anche altri ho visto nell'elenco ospedalieri ma non per questo sono costretti a parlare magari se dicono qualcosa rispetto alla loro esperienza potrebbe forse essere utile la parola io dico una sola cosa intervengo ma mi proprio mi ha colpito molto le parole di quello che ha detto e che fondamentalmente sulla prospettiva che dobbiamo dare cioè dire di sogno e di lettura di quello che vogliamo dare e fare differenziare quello che vuol dire salute cosa vuol dire sanità cioè dire la cura del malato è soltanto un momento della salute salute vuol dire diritto all'abitazione vuol dire diritto all'istruzione vuol dire diritto a un reddito decente perché quello che ci raccontava Paolo prima delle persone abbandonate dopo un intervento meraviglioso ma abbandonate nelle loro case che non avevano nel reddito che non avevano è una cosa di ogni vergogna per cui probabilmente riprendere lo spirito della 833 spirito della 833 che in realtà parte dal principio della Costituzione l'articolo 32 della Costituzione di cui tutti hanno diritto alle cure necessarie e anche se sono privo di reddito e altro ripartire da quello e rivedere realmente il concetto di salute e rivendere il concetto di salute altrimenti la popolazione ha un'idea molto sbagliata sul concetto di sanità e di salute fondamentalmente la persona quello che vuole essere curata il prima possibile se c'è degli amici mi fanno passare le liste di attesa essere visti dal medico considerato migliore e pagare il meno possibile e per cui la visione della salute e della sanità diventa questa mentre noi dovremmo ridare nuovamente una lotta sulla salute che parta dalle fabbriche dove gli operai si stanno prendendo il covid perché le misure di prevenzione in realtà non sono state minimamente effettuate che ripartano dagli ospedali dove anche in questo caso le misure di prevenzione sono state attivate in qualche modo basta questo era a quello che volevo dire posso sono Elisabeth no più che altro io avevo delle domande ai nostri relatori nel senso che ho visto che gli ospedali hanno hanno sviluppato e hanno accentrato molto tutte le attività ambulatoriali e quindi forse una prima manovra sarebbe appunto di tagliare un po' tutta questa attività e lasciarla allora nell'ipotesi di medicina specialistica che è in contatto con il territorio con la casa della della salute questa è una mia prima domanda una seconda è relativa al proseguo delle cure e quindi un po' adesso si parla di ospedale di comunità cosa che è anche prevista dalla piano recovery fund in un modo totalmente sbagliato perché pensano a dei soggiorni molto brevi nel tempo che sembra rispondere più alle pseudoesigenze dei pazienti covid diciamo non gravissimi non gravissimi comunque una struttura di ospedale di comunità secondo voi può essere una cosa che dobbiamo sostenere dove l'agganciamo l'agganciamo alle cure primarie quindi alla gestione della medicina di base associate e degli specialisti ecco queste sono le mie curiosità e domande ma secondo me a me mi ha colpito la il racconto di un medico di uno psichiatra che praticamente visse la ha vissuto la prima fase dell'applicazione della 180 la dismissione dei primi manicomi e la creazione degli spdc e lui diceva giustamente noi in effetti facevamo sia il territorio che l'ospedale nel senso facevano gli ambulatori territoriali e poi l'ospedale ruotavano come ruotavano vedevano pure sul territorio il paziente dimesso dall'spdc qui ci sarebbe un discorso un poco da approfondire sulla questione dell'acuzia cioè l'ammalato acuto no è un ammalato che giustamente ha bisogno di una struttura complessa che diciamo lo aiuta a superare la crisi sia la crisi diciamo di disturbo mentale che la crisi che può essere respiratoria cardiaca eccetera eccetera quindi diciamo non è che bisogna come facevano insomma negli anni settanta di psichiatra beh chiudiamo abbattiamo i manicomi giustamente che erano dei reclusori e basta ma noi per gli ospedali dobbiamo necessariamente avere bisogno di queste strutture che abbiano le attrezzature personale molto addestrato per far superare per salvare la vita prima di tutto e poi per far superare la fase diciamo di gravità della malattia però la cosa assurda che diciamo dovremmo in qualche modo superare è che l'ammalato il dipendente ospedaliero fa solo l'ospedale cioè il chirurgo sta solo in sala operatoria è bravissimo a muovere le mani poi non gli interessa più niente mentre invece vi garantisco pure da un punto di vista professionale sono di quell'area sono fatta una vita però ho fatto pure altro per tanti motivi pure perché per motivi di sopravvivenza all'inizio vi garantisco che invece è un modo per limitarsi pure mentalmente professionalmente rispetto al rapporto con l'ammalato sarebbe bene che invece tornassimo a quell'idea iniziale di quel di quel di quello psichiatra che si faceva pure l'ambulatorio territoriale e poi andava in ospedale faceva i turni in ospedale faceva i turni territoriali questa insomma questa circolarità dovremmo in qualche modo diciamo ricostruire e non come adesso praticamente l'ambulatorio dell'ospedale serve a captare i pazienti gli utenti per poi ingrossare la torre ingrossare le liste d'attesa dell'ospedale e quindi poi qua ci sta la lista d'attesa intrameni eccetera eccetera come ha detto Antonino tutti i meccanismi per cui mette in competizione i pazienti e si scatena tutti i meccanismi del ricatto del dell'incentivo economico eccetera eccetera ma praticamente collegare strettamente l'attività ospedaliere con quella del territorio io non vedo perché gli specialisti ambulatoriali non accedono mai in ospedale e viceversa l'ospedaliero non esca mai dall'ospedale questo dovrebbe essere un'altra modalità di trasformazione della nostra realtà pure perché gli ospedali si lamentano continuamente che vengono obberati di lavoro hanno troppo un eccesso di afflusso di paziente e quindi le liste d'attesa se invece diciamo si delocalizzasse la cosa prima di tutto si avrebbe un rapporto col territorio diverso che è più diretto e poi si risolverebbero parecchi problemi appunto della congestione e dei doppioni cioè molto spesso i pazienti per mia esperienza andavano prima dal medico curante poi andavano dallo specialista del territorio lo specialista del territorio per fare una cosa un po' un gradino più complesso lo spedevano in ospedale l'ospedale poi provvedeva casomai a ricordo questa è diciamo in linea teorica perché poi il concetto era quello lì allora molto spesso gli ambulatoriali territoriali dicevano vabbè ma noi non abbiamo le vostre attrezzature le vostre attrezzature sono poi qualcosa che artatamente non veniva non veniva distribuita sui territori parlo delle fibre ottiche parlo di microscopi parlo di attrezzature che potevano essere benissimo delocalizzate non hanno bisogno di tutto l'impianto ospedaliero per fare questo quindi si potrebbe immaginare no un 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 percorso o comunque un circuito diverso pure del rapporto pure lo sviluppo della professionalità diversa attraverso un rapporto diverso col territorio degli ospedalieri e degli ambulatoriali perché perché se si distingue questa un un faccio la l'ipotesi l'oculista che fa l'ambulatorio sicuramente avrebbe tutto il piacere di andare pure in ospedale a operare in ospedale perché seguirebbe il paziente avrebbe un'idea più diretta diciamo di tutti i suoi percorsi anche per soddisfazione e viceversa quello che invece sta solo a operare lo vedrebbe salvo che poi non tiene invece in testa l'idea che acchiappa il cliente e se lo porta poi fuori quello rientra sempre nel suo circuito professionale privato torna allo studio e si ingrossa cioè non so se mi spiego se però tu spezzi questo meccanismo evidentemente non consenti che invece si sviluppino questi fenomeni speculativi chiaramente l'incompatibilità come diceva Fulvio deve essere completa cioè chi sta chi è dipendente del della servizio sanitario nazionale deve essere dipendente e basta non la deve smettere con l'attività privata cioè né intrameni né extrameni eccetera eccetera tra le altre cose ne abbiamo assistito abbiamo fatto tutta una polemica Fulvio lo conosce Maranda ha fatto una 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 critica feroce eh all'istituto dei tumori di Napoli Pascale si è beccato una querela per diffamazione noi l'abbiamo sostenuto in qualche modo però qual era il problema che aveva fatto rilevare che diciamo entrando nel meccanismo mercantile del captare il paziente e cercare di portartelo al tuo studio e poi cercare di portartelo comunque spremerlo fino al in fondo ci sono diversi purtroppo medici eh lo devo dire che non si accontentano manco del circuito dell'Indramenia e saltano a pieppare pure questi meccanismi cercano di eh portarli nelle cliniche a volte pure con sotto sotto i prestanomi insomma vanno a operare altrove o indirizzano altrove al di fuori della 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 struttura pubblica con la solita cosa vabbè ma qui la lista d'attesa è lunghissima se tu fai una diagnosi a uno di un tumore e gli dici a sei mesi è chiaro che scateni il panico è quello è disposto la prima cosa che fa è telefona eh al medico curante il quale magari dice vabbè però prova in Lombardia oppure prova no dove sono e quindi il treno è la prima cosa però a volte diciamo c'è pure l'alternativa portata di mano eh che viene suggerita suggerita e questo è un meccanismo che purtroppo si è verificato a vari a vari livelli e l'abbiamo visto nella nella nostra eh realtà e anzi le liste d'attesa sono il più potente incentivo per questo malaffare eh e quando più sconquassata la sanità meglio prospera tutto questo corollario eh esterno quindi eh pure questo se vogliamo fare piazza pulita del di tutto questo mercimonio dobbiamo immaginare qualcosa di diverso qualcosa di diverso eh che non sia l'accomodamento che ha fatto la Bindi nel novantanove con la duecentoventinove concediamo un poco no eh qua o sei dentro o sei fuori e poi rispetto diciamo sicuramente delle dei diritti contrattuali della dignità della professione eccetera eccetera però poi basta insomma tu stai all'interno di un progetto di salute che è incompatibile con le forme eh speculative a qualunque livello quindi il discorso pure della casa della salute noi abbiamo visto eh gli ospedali di comunità purtroppo queste belle parole molto spesso vengono eh eh diciamo utilizzate per forme spurie di adattamento ma sempre diciamo che interessano le corporazioni mediche oppure delle linee di indirizzo che sostanzialmente tendono a destrutturare il sistema sanitario nazionale a farlo crollare loro non ci credono poi quando scrivono vogliamo pure loro pure il nostro piano regionale ospedaliero vogliamo le case della salute ma non se ne è vista una no e sicuramente nel momento in cui la volessero eh eh concretizzare la realizzerebbero nel peggiore dei modi perché mica vanno a parlare con le comunità eccetera parleranno con i sindacati medici e con i peggiori sindacati medici che chiaramente la prima cosa che credono che chiedono sono una serie di vantaggi e privilegi e poi diciamo il il diciamo lo sbocco assistenziale l'offerta assistenziale fermo restando che poi molto spesso alcuni di loro si mettono il cappio attorno al collo perché su certi percorsi chiaramente loro eh non vedono che alcune strade sono dei binari morti che non portano da nessuna parte cioè qua o l'assistenza pubblica eh riceve una legittimazione dalla sua efficacia e specialmente dal favore della popolazione oppure destinata a morire cioè eh quando tu a volte tante lamentere l'abbiamo sentito i medici di base che non rispondono a telefono oppure si sono resi lati tanti durante il periodo covid oppure la guardia vuole fare l'assistenza via telefonica covid o non covid e chiaramente la gente poi dice vabbè io vengo da te solo per scrivere la ricetta no e questo è uno svilimento uno svilimento della poi è chiaro che arriviamo al modello Lombardia cioè quello che ha detto prima eh Antonino e l'unica alternativa è poi quando ti senti proprio male vai in ospedale e cerchi di raccomandarti andare dal professore migliore cerchi un poco di di cavartela di portare la pella a casa e quest'è quindi o o cambiamo proprio registro oppure non ci sta niente da fare cioè sopravviviamo per un poco poi ripeto abbiamo davanti una crisi economica che se viene gestita male sarà una catastrofe cioè si scateneranno dei conflitti sociali e là veramente hanno voglia di chiacchierare i nostri politici quelli salteranno tutti quanti perché già hanno fatto le peggiori figure a livello della storia del dopoguerra però lasciamo stare ma e poi specialmente avremo oltre alla crisi economica e sociale anche una crisi politica una sfiducia totale nella politica che può creare pure dei mostri può generare qualunque cosa quindi di tutto questo la sanità chiaramente Mocha ha riacquisito ha riacquisito in qualche modo una sua centralità per a causa del covid stavo dicendo grazie al covid verrà messa a parte cioè vabbè diranno vabbè ci siamo scorsi come abbiamo visto no? le ribellioni a un certo punto per i momenti di alcuni settori i ristoratori albergatori eccetera eccetera però quando verrà il resto che si ribellerà perché magari poi mancheranno delle cose sostanziali come il modo di proprio di sopravvivere la cosa sarà molto diversa quindi noi voglio dire abbiamo proprio il dovere quasi politico storico di proporre una via di uscita a questa a questa come dire a questa gabbia in cui diciamo è stata più o meno posta la sanità il sistema sanitario nazionale e ma specialmente far vedere proprio a partire da questa crisi creata dal covid che inseguire certi vecchi schemi è è del tutto fallimentare è improponibile quindi ad esempio le assunzioni che devono essere fatte non è devono essere fatte tutte diciamo per come rapporto a dipendenza del sistema sanitario nazionale e specialmente dobbiamo andare a chiedere a questi qua ma tu che cosa tieni in testa come vuoi gestire la nostra realtà sanitaria no? non è che come come è avvenuto fino adesso ci sta il demiurgo no? il il governatore che quasi sempre non capisce niente né di salute né di sanità eccetera eccetera è uno che si spende la sua faccia con le battute abbiamo visto un teatrino indegno no? in questo periodo eh vabbè il nostro era proprio un commediante però ne abbiamo viste parecchie di macchiette a a livello televisivo insomma pure il vostro Fontana non c'è male era un poco eh più diciamo tragica la cosa ma insomma siamo su quel livello lì mentre che invece però cioè loro facevano i giochetti i numeri eccetera ma su come voler trasformare le cose come voler veramente risolvere i problemi nessuno poi si è pronunciato realmente era solo un gioco di strappare dal governo centrale qualcosa in più qualcosa di più e voglio che era va bene scusate proviamo proviamo anche a sentire qualcun altro magari anche ospedaliero ma non medico per vedere che cosa pensa di questo tipo di situazione uno o una ma non so se volete proprio qualcosa potrei lo potrei dire allora io credo di essere d'accordo con con Paolo cioè il fatto che senza dubbio adesso è il momento per poter almeno cercare di smuorre qualcosa per appunto anche per quel poco che anche noi riusciamo fare insomma perché il purtroppo dalla dalla mia esperienza così ho visto che di fatto ciò che va a modificare in maniera anche abbastanza veloce è tutta la parte organizzativa per cui dell'organizzazione sanitaria in generale e questa può essere fatta soltanto attraverso una legislazione per cui da quel punto bisogna per forza di cose passare il passaggio che c'è stato a metà degli anni 90 tra il pagamento a piedilista e i DRG si è visto chiaramente cioè la modifica anche soltanto dei tempi di appunto di gestione dei pazienti nei diversi reparti si è ridotta drasticamente nel giro di pochi mesi pochi mesi per quale motivo perché sono entrati i DRG e con i DRG hanno raggiunto quello che era l'obiettivo l'obiettivo principale che era quello di ridurre appunto i giorni i giorni di degenza e ripeto questa cosa qui è stata si è raggiunta velocemente attraverso attraverso l'imposizione di una organizzazione nuova ed è lì dove noi dobbiamo agire cioè proprio andando a rivedere tutta quella appunto tutta quella impostazione poi c'è un altro elemento che io invece chiedo appunto soprattutto ai due medici e non solo io potrei parlare per quanto riguarda la mia parte che è quella relativa anche alla formazione e perciò anche all'università insomma di certi argomenti non se ne parla minimamente all'interno di un'università una persona diventa diciamo così sensibile io parlo di quelli che tra virgolette si vogliono comunque chiamare professionisti si avvicinano diciamo a una visione più generale semplicemente se hanno una loro sensibilità ma cioè io credo che uno degli elementi fondamentali sia appunto come diceva anche Maccacaro proprio rivoltare l'università e anche questo è uno degli argomenti che io credo dobbiamo dobbiamo riprendere anche perché adesso e chiudo c'è tutta la questione che sta venendo fuori soprattutto con il recovery plan con questi 11 miliardi a disposizione di quella che poi sarà la telemedicina diciamo in maniera chiara telemedicina che che praticamente ha innanzitutto un legame immediato perché questo è già stato detto è già stato definito che nel momento in cui si raggiungeranno gli obiettivi relativi alla telemedicina ci sarà poi una revisione dal punto di vista diciamo così degli 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 strumenti economici per per il personale cioè telemedicina significa che una che una persona può diciamo così coprire dal punto di vista teorico più persone per cui si può risparmiare su personale una volta che diventa una volta che diventerà una volta che diventerà attiva e appunto si sta andando in quella direzione allora io non sono per forza contrario a certi aspetti relativi alla telemedicina ma questa cosa deve essere assolutamente assolutamente gestita e controllata benissimo dal basso perché lì significa davvero che ci saranno ulteriori speculazioni sia dal punto di vista dei professionisti della sanità ma anche dei professionisti di altre cose insomma per cui non lo so ecco volevo chiedere anche a voi cosa ne pensavate chi interviene ma io non è che voglio parlare sempre io ma certamente purtroppo l'utilizzo delle tecnologie diciamo può essere una cosa ottima e può essere anche un elemento di gestione di tipo mocivolo aziendalistico o comunque il fatto che teoricamente è possibile adesso come adesso fare delle diagnosi pure complesse non solo il collegamento diciamo con l'impianto della medicina di base ma insomma anche diagnosi specialistiche tramite a distanza addirittura si sono fatti degli interventi a distanza distanza depende chirurgici uno specialista che stava neanche in Italia ha pilotato degli interventi che invece avvenivano qui questa cosa qui chiaramente se viene gestita no con la mentalità dell'azienda che tende solo a come dire risparmiare il personale risparmiare e dare diciamo il minimo indispensabile alla popolazione è una cosa da contrastare ma se diciamo la medicina territoriale viene invece dotata di attrezzature tecnologiche diciamo di migliori che sono capaci diciamo di rendere più maggiore l'autonomia rispetto alla struttura ospedaliera questo sarebbe un bene però stiamo sempre lì dipende dalla gestione politica di tutto il circuito se ne fai un problema di risparmio e di diciamo efficientismo di tipo produttivistico è una cosa se invece ne fai un discorso di migliorare l'assistenza ai territori è un altro discorso di per sé la tecnologia non è che è nemica dell'assistenza sanitaria diciamo pubblica ma se viene gestita da mani sbagliate lo diventa è un po' come la robotizzazione nelle fabbriche no come l'impiego di alcune tecnologie moci vuole nei cicli produttivi se viene utilizzata solo per risparmiare la mano d'opera è evidente che diciamo risponde a una mentalità speculativa se invece la utilizza una mente o comunque un progetto diverso evidentemente è una cosa da 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 sfruttare e anzi da sviluppare anche in maniera più più efficiente di quando non possa immaginare ad esempio un'azienda che produce queste tecnologie l'azienda che produce le tecnologie più o meno si informa sulla possibilità di mercato e già la parola di per sé non coincide se invece facciamo un discorso rispetto a all'incidenza ad esempio della mortalità evitabile avendo diciamo uno schema di quanti morti in eccesso per incidenti vascolari si verificano che magari diciamo avresti la possibilità di fare un elettrocardiogramma immediato a casa nel caso di un sospetto è la cosa è diversa questo così la vedo io insomma non è che dobbiamo fare una lotta di retroguardia contro le nuove tecnologie però certamente quando poi nei progetti generali dei governi o delle regioni queste tecnologie vengono utilizzate solo in quella direzione evidentemente non ci siamo pure perché parliamoci chiaro questo vorrebbe dire accentrare ancora di più in poche mani pure la gestione della salute delle persone e diminuire o eliminare del tutto il rapporto umano che è un altro elemento che è diciamo fondamentale pure per veramente la professionalità medica di buon livello questo è bene io dico una cosa brevissima la salute non è una merce cioè non è una cosa come vogliono farci pensare mercificate per cui hai il tuo ticket di pagamento in cui ti fanno una telefonata una videochiamata e tu risolvi il problema parlo da diabetologo la cosa più importante è il rapporto con la persona cioè la persona cioè di dire non ha il diabete ma c'ha il marito c'ha la moglie c'ha i figli c'ha la scuola c'ha il lavoro c'ha mille cose che tu devi in qualche modo intercettare all'interno del quotidiano di questa persona perché avere il valore della glicemia inviato via mail inviato via web o altro in realtà non è il rapporto medico-paziente che tu devi staurare per cui io sulla telemedicina sicuramente da dei vantaggi sono alcune cose che sono sicuramente utili non da trascurare e da dover utilizzare ma ritenendo sempre la persona come persona singola con tutti i suoi problemi per me parlo della professione che facevo e che in qualche modo faccio ancora per me la mia persona non è la glicemia è la persona che ha quella glicemia è quella persona che ha necessità interventi possibilità di capire e di utilizzare quel valore per capire come gli è successo per questo di stare molto attenti a queste nuove tecnologie che non diventino dei meccanismi automatici come i centri di ascolto o altro che ti danno la risposta automatica schiacci il tasto 1 schiacci il tasto 2 se ha glicemia alta schiacci il tasto 3 se va in glicemia è un rapporto umano che il rapporto medico paziente vada in ogni caso salvaguardato e rivisto in quest'ottica sì credo che sia proprio questo il nodo che se leggendo il famoso piano nazionale per spendere i famosi soldi che poi pare di meno di quelli che hanno detto dell'Unione Europea c'è la sensazione che la soluzione stia nelle nuove tecnologie stia nella digitalizzazione no che fra l'altro adesso dico la mia piccola esperienza trovo che diventa sempre più difficile più passa il tempo e più si fa fatica ad entrare che poi devi cambiare la password devi trovare altri sistemi e quindi ti trovi in difficoltà mentre invece la questione della relazione questa viene messa assolutamente da parte e quindi anche la questione degli operatori che cioè il sistema sanitario è fondato sulle persone è fondato sulla relazione fra le persone e quindi questo è un discorso che appunto da questo grande piano a me sembra che sia stato molto trascurato ma capisco anche che non è semplice cioè perché io credo che noi facciamo tante volte tante analisi giustamente ma poi abbiamo facciamo fatica a dire che cosa dobbiamo fare per cambiare e quindi questo è un discorso che ci deve prendere nel prossimo periodo come quello sulla casa della salute adesso io ho visto il convegno che aveva messo in piedi il il gruppo di il comitato di Saronno un comune vicino a Milano della provincia di Varese comunque e credo che sarebbe opportuno forse c'è già sul sito di medicina democratica perché sono venute fuori delle esperienze molto buone anche per esempio dalle miglie romagna che di esperienze ce n'ha diverse e qualcuna anche contraddittoria però ci sono delle cose che vanno assunte allora il nostro compito e abbiamo visto in questo periodo che sono nati molti coordinamenti per il diritto alla salute il nostro compito è quello di fare un salto e di vedere tutti questi coordinamenti di vedere tutti questi comitati che ci sono che lavorino e operano insieme e siano una sorta di nuova classe operaia che come la classe operaia ai tempi antichi è arrivata a cambiare la sanità e a rompere con la monetizzazione e a fare la riforma sanitaria anche questa volta riesca a frenare il sistema mercantilista di privatizzazione noi abbiamo la rete europea che sta organizzando la manifestazione o l'incontro nazionale del 7 aprile che è la giornata mondiale per il diritto alla salute stabilito dall'OMS che sta lavorando in questa direzione e quindi il problema e la possibilità che noi abbiamo è effettivamente comincia a essere realista nonostante tutte le enormi difficoltà addirittura cambiando il segno e facendo diventare la cosa peggiore che ci è capitato in questo periodo che è quella del covid come un momento di trasformazione in un momento di cambiamento ecco io stasera visto che siamo arrivati al limite cioè siamo quasi alle otto per cui la chiuderei qui ricordandovi la prossima riunione del corso che è quella di del 2 di febbraio che avrà come tema un altro tema fondamentale e molto pesante che è quello della cronicità e non autosufficienza e della grave disabilità per cui ci rivediamo fra una settimana quella sera grazie della partecipazione e a risentirci e fra l'altro anche in settimana ci sono ancora incontri visto che da diciamo questa possibilità di relazione tramite il web è una cosa che ci sta quasi salvando diciamo dall'impossibilità di relazione fisica come abbiamo sempre fatto negli ultimi tempi bene grazie e a risentirci grazie buonasera grazie a tutti bravissimo grazie grazie grazie